santa maria e monti venne costruita alla fine del cinquecento su resti di un convento delle clarisse su commissione del cardinale sirleto nel progetto di giacomo della porta la cupola che segue l'edificazione del corpo e della facciata della chiesa si caratterizza per una circonferenza e un diametro contenuti e per un tamburo molto pronunciato la decorazione che la riveste presenta uno straordinario dialogo tra dipinti stucchi sculture in legno dove alle pitture disposte su più livelli è affidata principalmente la trasmissione della vicenda mariana siamo nella chiesa di santa maria i monti una delle chiese più significative del rione realizzata tra il 1586 il 1589 a seguito di un evento straordinario avvenuto in questo luogo in quanto è conservata appunto nell'abside l'immagine della vergine con il bambino a cui si attribuisce un miracolo avvenuto nel 1579 ovvero la guarigione di una di un cieco a seguito di questo evento in corrispondenza di questo sito gregorio tredicesimo ha voluto edificare la chiesa tra il 1586 e il 1589 conferendo l'incarico della costruzione a giacomo della porta uno degli architetti all'epoca più in boga nella roma di fine cinquecento e allievo già di michelangelo del vignola che si era precedentemente già diciamo sperimentato nella costruzione della chiesa del gesù infatti la facciata della della chiesa di santa maria i monti ricalca anche se in scala minore la facciata della chiesa del gesù la chiesa di santa maria i monti è una delle chiese più importanti dal punto di vista architettonico del passaggio tra il rinascimento e il barocco in quanto incarna sostanzialmente tutti i dettami delle nuove disposizioni del concilio di trento quindi con un impianto planimetrico ad aula unica con cappelle con una parte fondamentale e dettata dalla parte presbiteriale e dell'abside che preannuncia le chiese a pianta centrale che saranno poi diciamo portate avanti e sperimentate nel periodo barocco il cantiere decorativo della chiesa di santa maria i monti è uno dei cantieri che abitano la città di roma negli anni che precedono il giubileo del 1600 quindi è un'impresa pittorica e non solo pittorica che va inserita in un contesto di grande vivacità della scena romana in previsione di questo grande momento giubilare in questo caso si tratta di pittori guidati da cesare nebbia e un'equip di pittori vari di diverse provenienze e in vari momenti della loro attività ovvero qualcuno piuttosto affermato qualcuno invece alle prime armi che appunto guidati da cesare nebbia mettono insieme le varie scene che compongono la decorazione della cupola non ci sono soltanto pittori ci sono anche stuccatori ci sono anche intagliatori perché alcune delle parti che compongono questa cupola che pur hanno una resa diciamo bianca molto chiara in realtà sono realizzate in stucco oppure in legno quanto alla decorazione propriamente pittorica ruota attorno al tema mariano la chiesa è dedicata a maria e dunque il tema iconografico della cupola celebra maria in maniera molto evidente il lanternino dunque la sommità della cupola accoglie la figura del dio padre che quindi è pronto a ricevere in cielo la vergine le cui storie sono raccontate nella parte mediana del tamburo episodi della vita di maria accompagnate dalle figure di angeli musicanti quindi gli angeli musicanti quindi con una musica celeste accompagnano la vita di maria che viene narrata in otto episodi è un diciamo un'impostazione molto classica e molto comprensibile perché c'è questa esigenza di rendere immediatamente leggibile il contenuto del ciclo pittorico che è una caratteristica diciamo dell'arte di questi anni i dipinti sono sicuramente ad affresco i pigmenti utilizzati sono quelli tipici dell'affresco quindi prevalentemente terre smaltino per gli azzurri nero di vite per i colori scuri mentre per quanto riguarda gli stucchi c'è un'esecuzione con una grande maestria nella lavorazione della malta perché ricordiamo che questi stucchi sono realizzati con un nucleo di malta di calce pozzolana con una granulometria un po più grossolana all'interno e con invece una rifinitura con una malta costituita da calce e polvere di marmo travertino per l'esecuzione della finitura la finitura così ottenuta veniva poi arricchita dalle dorature risparmiando in maniera molto accurata la doratura laddove c'erano delle superfici non visibili dal basso questo problema del punto di vista è anche molto evidente nella tecnica esecutiva per esempio delle grandi statue del tamburo che sono state realizzate e intagliate in legno e trattate con una finitura che imitasse lo stucco quindi bianche e dorate come il resto della decorazione e queste sono appaiono diciamo viste da vicino come troppo allungate deformate insomma questo grande scorcio avrebbe creato delle deformazioni che sono state poi invece bilanciate durante l'esecuzione dell'opera il nostro intervento di restauro è consistito innanzitutto nella messa in sicurezza di tutte le parti in pericolo di caduta problematica questa legata alle numerose infiltrazioni di acqua avvenute nel corso dei secoli motivo per il quale era stata fissata una rete alla base della cupola negli anni 2000 ed è rimasta per più di vent'anni fino all'inizio del nostro intervento nel gennaio 2022 la cupola fu decorata in pochissimo tempo tra la primavera del 1599 e il febbraio del 600 questa rapidità dell'esecuzione è stata la causa del creare molto evidente sugli affreschi come anche del decoesionamento e distacco degli stucchi del tamburo dove la doratura è stata fatta quando la malta era ancora umida dopo l'operazione di consolidamento l'intervento è proseguito con la spolveratura perché la quantità di polvere presente era notevolissima poi si è passati alla pulitura vera e propria è stata realizzata con acqua acqua corrente sia utilizzando delle spugne di varie durezza e pennelli più o meno morbidi ma anche il bisturi e le microfrese elettriche soprattutto nel caso degli stucchi non nel caso degli effreschi la microfrese è stata necessaria per poter andare a intervenire in tutti gli intestizi dei dei rilievi una fase delicata è stata quella della rimozione dei bendaggi a livello del tamburo che erano stati messi proprio per quel problema delle dorature realizzate troppo velocemente e dove quindi la malta di costituzione era completamente decoesionata e quindi contemporaneamente alla rimozione dei mondaggi abbiamo anche dovuto fare il consolidamento della malta degli stucchi un'altra parte molto importante del nostro intervento è stata quella del rincollaggio di tutte le parti staccate questo è avvenuto su tantissime parti delle decorazioni a stucchio abbiamo praticamente riapplicato circa 30 rosette di quelle presente al di sotto dei cornicioni e poi abbiamo realizzato anche dei nuovi ancoraggi con perni e fili in acciaio inossidabile per tutte le figure degli angeli soprattutto quelli sopra finestra e sopra i riquadri degli affreschi perché gli ancoraggi originali realizzati quindi nel cinquecento con chiodi e fili di ferro erano completamente ossidati e in molte parti anche completamente staccati durante l'operazione di pulitura sono state anche rimosse tutte le stuccature realizzate in precedenti interventi di restauro e e anche le estese di dipinture presente sugli affreschi l'intervento poi è stato concluso con l'operazione di stuccatura di tutte le lacune presenti che è stata fatta rispottando le caratteristiche e la tipologia e quindi dei materiali originali sia per quanto riguarda gli affreschi che per quanto riguarda gli stucchi l'intervento si è concluso con la reintegrazione cromatica che è consistita nell'abbassamento di tono di tutte le lacune e abrasioni della pellicola pittorica le grandi stuccature realizzate con una malta del tutto simile all'intonaco originale sono state invece rilasciate a vista semplicemente armonizzate con il resto dei toni della decorazione una delle scoperte di questo restauro che abbiamo fatto appunto salendo sul punteggio è stata che le statue non sono realizzate in malta come si pensava ma in legno si è proceduti anche in questo caso con il consolidamento degli strati di preparazione e di pellicola pittorica delle statue che sono di colore chiaro e anche nel consolidamento di tutte le parti dorate che erano state completamente ricoperte da vari strati di scialbo negli interventi di restauro precedenti e sono stati rimossi attraverso una pulitura meccanica a bisturi attraverso le indagini scientifiche abbiamo ottenuto delle informazioni molto importanti sui pigmenti utilizzati nella realizzazione degli affreschi sulle tecniche quindi di esecuzione e anche sullo stato di conservazione in particolare sul degrado riscontrato nelle malte di costituzione sia degli affreschi che degli stucchi l'importante di questo restauro è stato proprio la riscoperta di queste cromie originali che sono state poi valorizzate da un nuovo impianto di illuminazione che abbiamo voluto appunto era l'occasione di avere i ponteggi un ponteggio tra l'altro anche molto importante che è stato costruito con una tecnica appunto del ponteggio multidirezionale che ha consentito anche di poter bonificare e rinnovare tutto l'impianto elettrico che era obsoleto non era norma e quindi questo è stato un'ulteriore occasione per valorizzare la chiesa e l'intervento che abbiamo fatto con un nuovo impianto di illuminazione. Dopo più di un anno di lavoro finalmente possiamo togliere i teli e smontati tutti i ponteggi i parrocchiani ma non solo perché tutti gli abitanti della città potranno ammirare finalmente l'intervento di restauro che è stato realizzato alla cupola di Santa Maria ai Monti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.